Il mio diretto è per me e io per lui. Egli mi dice, mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore, tenace come gli inferi e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere né l'amore né i fiumi travolgerlo. Grazie a tutti. Il matrimonio è una vocazione. E Salvatore e Laura questo lo hanno compreso e vissuto chiaramente. Hanno loro confermato che il loro stare qui oggi è veramente una chiamata. Il matrimonio è una chiamata. Il matrimonio è una chiamata. Il matrimonio è una chiamata. Grazie a tutti.